benvenuti su delta web tv una nuova televisione tutta online una televisione che vuole diversificarsi da quella ordinaria da quella quotidiana delta tv non sa dove arriverà quale sarà il suo percorso ma di sicuro susciteremo in voi un interesse uno dei temi che tratteremo è quello della speleologia così vi porteremo nei cunicoli più riservati più misteriosi più sconosciuti adesso vi lasceremo ad un breve filmato The Search of Infinity un video che ha fatto concorrere Cassano all'Oionio con il resto dei paesi del mondo al film spele o film festival in Croazia buona visione seguiteci e seguiteci Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.